Il maltempo è ormai alle spalle, ma Pesaro si continua a lavorare per i tristinari danni provocati dal maltempo. In azione anche 230 volontari che hanno risposto all'appello del comune. Aiutare è un senso civico, è il nostro dovere. Siamo in autopatria, ti prodighi. Basta la politica dei tagli, l'infermiere è una risorsa fondamentale per la nostra sanità. Su Fanu TV l'appello di Laura Biagiotti, presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche di Pesaro Urbino. Diminuendo la spesa sulla sanità non si dà la qualità della vita ai cittadini. Trage di Platani, assenza di qualità architettonica, si tindi protesta in Viale Cairoli a Fano contro il nuovo sottopasso ferroviario. Chiediamo che si fermi questo ITER, che ci sia un tavolo di confronto, aperto a associazioni, cittadini e che si arrivi a un progetto migliore di questo, ovviamente con la presenza del verde. Arrivato dalla Croazia il carico di scogli per l'ultimo setto a Sassonia di Fano, l'assessore Cristian Fanesi annuncia la fine dei lavori per l'apertura della stagione stiva. Avremo una stagione fortunata, sicuramente fortunata. Dopo il telegiornale torna primo cittadino, ospite, sindaco di Vallefoglia, Palmiero Ucchiello. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Quello appena trascorso è stato un fine settimana di duro lavoro a Pesaro per tanti cittadini che hanno operato per liberare case e garage da acqua e fango dopo l'evento alluvionale della scorsa settimana. Con le nostre telecamere abbiamo raggiunto i luoghi maggiormente colpiti per accogliere le testimonianze dei residenti. Allora vediamo un servizio che è stato curato da Marco Lunigro. Il maltempo dei giorni scorsi ha definitivamente lasciato Pesaro e provincia ma prosegue la conta dei danni. A diversi giorni di distanza dall'evento alluvionale nella periferia pesarese sono diverse le case garage con all'interno fango e acqua. Siamo in via Savio nel quartiere Cattabrighe qui a Pesaro sarà un weekend di duro lavoro perché bisognerà togliere fango e acqua all'interno dei garage e negli appartamenti. Non solo il garage ma noi abbiamo anche proprio tutta la casa allagata un metro e sessanta mi passava sopra l'acqua in casa e stiamo cercando di sgomberare tutto di salvare il salvabile diciamo. Quali sono stati i danni? I danni ancora saranno da quantificare però un metro e sessanta d'acqua dentro casa i danni penso che ci siano a parte gli elettrodomestici che quelli non si salvano poi i mobili tutto. Sì sarà un duro lavoro perché più ne levi e più ne ritrovi non finisci mai sei sempre lì a tirar fuori la lecca da tutte le parti. Abbiamo avuto dentro quasi un metro e mezzo d'acqua come vedete la riga si vede dovevamo depositato tutto il materiale pronto per i lavori che stavamo facendo. Cemento, colle, tutto è andato a quel paese in più avevamo i mobili nelle capanne per riportarli una volta finiti i lavori tutto cucine, lavastoviglie, frighi tutto da buttare via. Insomma è veramente una situazione veramente brutta brutta un po' per tutti per tutta la via per tutti i marchigiani, i romagnoli per tutti. Veramente brutta è una gestione che purtroppo forse se i fossi fossero stati puliti non dico che non ne sarebbe venuta perché la bomba era molto grossa però forse non avremmo avuto un metro e mezzo d'acqua ma ne avremmo avuto 50 centimetri e forse qualcosa si salvava di più di quello che non riusciamo a salvare adesso. Tanto fango, tanta acqua anche per voi sarà un weekend di duro lavoro? Sì, continuiamo a pulire giorno dopo giorno e speriamo di ritornare alla normalità prima possibile. Quali sono stati i danni? Abbiamo avuto quasi un metro d'acqua al piano terra di casa e anche nel garage, insomma abbiamo fatto i lavori poi da poco, cucina, elettrodomestici erano tutto sotto l'acqua. Quello che potevamo salvare l'abbiamo salvato, molte cose le abbiamo buttate via. Ci spostiamo a Vismara, un altro quartiere di Pesaro dove un garage è stato completamente inondato da acqua e fango, residenti al lavoro per salvare l'intero arredamento. Mi danni un gran bel po' qui, un bel po' perché anche di sopra mi hanno dato l'acqua, prima pulito sopra e poi di sotto. Qui abbiamo attaccato le pompe che avevo, dopo mi sono bruciate anche e dopo ieri sono venuti i pompieri, mi hanno dato una mano ma fino a quando potevano perché dovevano andare dall'altra parte. E dopo ho fatto tutto io, portato fuori e stamattina mi è venuto l'Aspes, mi ha detto che devo mettere plastica, legna e tutto separato che dopo giovedì mi vengono a prendere. Dunque tanti danni insomma? I danni molti, molti. Da dove inizia il campo sportivo è venuta giù tutta l'acqua, tutta qui e la prima cosa è entrata qui, poi di qua e di là è entrata e alla fine qui ce n'era 20 centimetri ma sotto ce n'era 2 metri perché fuoriscivo da lì. Quello sotto è 2 metri, c'era 2 metri d'acqua. Comunque danni materiali non ne abbiamo avuti, l'unica cosa che ho dovuto fare tutto di nuovo perché lavare, stirare tutte quelle cose che era così, sennò come danni niente. Ed è stata una grande prova di solidarietà quell'offerta dai pesaresi nei confronti di famiglie e aziende che hanno subito danni ingenti. Il comune cercava volontari e alla chiamata hanno risposto in 230. Il grande cuore di Pesaro abbraccia i cittadini colpiti dall'alluvione. La protezione civile e tanti altri volontari in questi giorni sono scesi in campo per aiutare a ripulire aziende e abitazioni dopo le piogge abbondanti di settimana scorsa. Sono 230 i volontari che hanno risposto alla chiamata lanciata dal comune di Pesaro nella giornata di mercoledì scorso. Ci ha commosso davvero questa grande adesione all'appello che abbiamo lanciato per la richiesta di volontari per alluvione. Oltre 230 ragazzi e ragazzi, la media dell'età è 20 anni, giovani e meno giovani che hanno dato la disponibilità. Siamo orgogliosi e commossi di questa grande partecipazione. Lanciamo un appello. Chi ha bisogno di aiuto, chi ha bisogno della disponibilità dei volontari per pulire casa, ripulire cantine, sgomberare i propri appartamenti purtroppo allagati, ci contatti allo 0721 387 616. La protezione civile vi invierà queste meravigliose persone a darvi una mano. È molto importante chiedere aiuto quando c'è bisogno e soprattutto quando l'aiuto è offerto. Valuteremo di queste 230 disponibilità anche una volta finita l'esigenza a Pesaro di offrire questo grande patrimonio che è emerso nella nostra comunità per andare a aiutare le famiglie in difficoltà in Romagna ed Emilia, Cesena, Forlì. La disperazione che queste comunità stanno vivendo è sollevata dal grande sole dopo la pioggia di queste persone che vogliono dare una mano. Siamo molto orgogliosi, grazie a tutti davvero. Un supporto, quello offerto dai volontari, ovviamente apprezzato anche da Ugo Schiaratura, coordinatore della protezione civile di Pesaro. Oltre i nostri volontari, che sono ormai una tradizione, che sono sempre presenti quando ci sono una calamità, questa volta sono venuti anche dei volontari proprio ad hoc per questo, purtroppo, disagio che avevano avuto questi giorni, comunque hanno risposto bene, bene, stanno lavorando, collaborano con noi. Angela Pisegna, una volontaria che abbiamo incontrato sabato mattina, ha vissuto la tragica esperienza del terremoto all'Aquila nel 2009. Oggi, senza alcuna esitazione, ha scelto di offrire una mano a famiglie e aziende colpite dall'alluvione. Le calamità sono brutte tutte quante. Il terremoto credo che sia brutto per un verso, non ti avvisa, non te ne accorgi, non puoi fare altro. L'acqua, sì, puoi prevedere, c'è un'allerta meteo, ma i danni che fa l'acqua, cioè così brutti, non li ho visti mai. Al di là della situazione che c'è qui in questi giorni, poi mi arrivano immagini da amici che loro operano proprio a livello, cioè stanno nell'esercito dei vigili del fuoco, e quindi loro possono prendere parte a quel tipo di emergenza, che lì è solo ancora emergenza, quindi non è volontariato, e mi arrivano delle immagini allucinanti. Speriamo di poter dare una mano anche a loro, perché stanno messi male. Qui purtroppo la situazione non è bella, non è facile, però insomma ci aiutiamo, le persone in difficoltà vanno aiutate. Io so che significa essere aiutata e credo che sia doveroso, ma anche se non necessiti, nel senso aiutare è un senso civico, è il nostro dovere. Se ami la tua patria, ti prodighi. Spero che i ragazzi, specie più giovani, lo facciano, perché credo che sia un dovere di ogni cittadino. Mattinata di sopralluoghi al cimitero di Nuvilara, per i tecnici del Comune di Pesaro, il presidente di Aspes, Luca Pieri, dopo il crollo del muro perimetrale causato dal maltempo. La parete è stata messa in sicurezza da Aspes e Comune, attraverso un telo antipolvere, transenne e apposita segnaletica, hanno spiegato l'assessore al fare Riccardo Pozzi e Luca Pieri. Entro la settimana inizieranno gli interventi di rifacimento e dureranno circa dieci giorni. La zona rimane comunque al momento pericolante, quindi si invitano i cittadini, hanno detto, a non transitarvi fino al termine dei lavori. Oggi Bene Comune è intervenuto sulla nuova interquartieri di Fano. Seppur interessata marginalmente dalla pioggia di questi giorni, la zona di Carmine-Belgatto è diventata in poco tempo un fiume di fango, è stato precisato nella nota. Le colline di San Biagio sono state interessate da movimenti franosi e alcune strade sono state spaccate dalla furia dell'acqua che scendeva valle. Riteniamo, aggiunto Bene Comune, che sarebbe da irresponsabile insistere ancora con la strada interquartieri che taglierebbe in due la collina di Belgatto-San Biagio, attraversando zone molto fragili come l'alveo dell'Arzilla. Un nastro di asfalto, come sarebbe l'interquartieri, per più di tre chilometri, con un ponte sopra l'Arzilla. Muri di contenimento in cemento armato e lavori in trincea rischia di dare il colpo di grazia ad una collina che ha problematiche idrogeologiche non da poco. Nessuno vuole perdere i 20 milioni di euro messi a disposizione dal Cipe, ha concluso Bene Comune, che propone al sindaco Massimo Seri di chiedere alla Regione e al Governo la possibilità di utilizzarli per mettere in sicurezza il territorio e per sistemare le spiagge erose dalle mareggiate, le frane e i corsi d'acqua, evitando che in futuro possano verificarsi i lagamenti con il rischio di perdere vite umane, attività produttive e abitazioni. Il cimitero di Rosciano di Fano è allagato e al buio. Inizia così la segnalazione arrivata oggi alla nostra redazione. La causa, ha precisato il telespettatore, non è solo la pioggia straordinaria dei giorni scorsi. Infatti, quando piove, la parte sottostante è sempre allagata. In curia e degrado la fanno da padrona. Necessitano interventi urgenti, quindi urgenti lavori di manutenzione. Almeno, ha concluso il reporter, si degnino di raccogliere l'acqua, visto che i servizi cimiteriali sono abbastanza onerosi per noi contribuenti. Cambiamo argomento. Sono finalmente arrivati a Fano gli scogli che andranno a completare l'ultimo setto davanti ai bagni Carlo a Sassonia, grazie al motopontone arrivato direttamente dalla Croazia. Questa mattina Filippo Puccio ha intervistato l'assessore alla difesa della costa, Cristian Fanesi, e il gestore della spiaggia, Matteo Renzi. È arrivato nella tarda giornata di ieri, domenica, il motopontone carico di scogli dalla Croazia che avrà il compito di realizzare da nuovo l'ultimo pezzo mancante a Sassonia che andrà a completare così il lungo tratto che dal fiume Metauro arriva fino al porto turistico. Già dalle prime ore di questa mattina la ditta incaricata è al lavoro per concludere in tempi celeri l'intero setto che verrà realizzato di fronte ai bagni Carlo e a fianco della passeggiata dell'Isippo. Avevamo annunciato già l'arrivo della nave la settimana scorsa ma è evidente che per motivi di previsioni meteo avverso non è stato possibile fare durante questa settimana ma sta lavorando lacrimente e lavorerà fino a stanotte verso le 23 per poter scaricare tutto il materiale e disporlo inizialmente qui a Sassonia e poi sistemarlo i prossimi giorni. La scogliera che stiamo costruendo è una scogliera lunga 80 metri circa che sporgerà dal livello medio mare di un metro e mezzo rispetto appunto al livello medio mare con un varco lasciato rispetto al porto un po' di metri in più ma rispetto alla scogliera precedente di 25 metri per ovviamente permettere il deflusso e l'afflusso delle acque del mare la scogliera completa avrà un impegno di materiali di circa 13.000 tonnellate di scogli che saranno trasportate in parte con questo viaggio e in parte con il prossimo viaggio che pensiamo di avere già da metà della prossima settimana quindi se tutto va bene se le condizioni meteomarine ovviamente in questi casi si deve dire così le condizioni meteomarine permetteranno il lavoro se non ci sono altri inciampi la scogliera potrà essere consegnata al comune di Fano in tempo per l'apertura della stagione estiva qui a Sassonia e nella nostra città. Oggi ho pianto di felicità scrive sui social Matteo Renzi titolare dei bagni Carlo a Sassonia di Fano che in questi giorni è al lavoro insieme alla sua squadra per l'apertura dell'imminente stagione estiva. Le mie sono solo parole di felicità per noi ovviamente per il nostro lavoro ma anche un po' diciamo per tutta la clientela e tutta la città di Fano perché questo era un ultimo pezzo ancora martoriato dal mare non difeso dalle scogliere finalmente dopo anni di sacrifici siamo arrivati al dunque e la felicità per vedere oggi gli scogli e quindi poter cominciare la stagione con molta più tranquillità è veramente grande quindi oggi mi sento solo di dire grazie a tutti indistintamente è vero qua ci siamo arrivati anche dopo un percorso di errori, sacrifici colpe, non colpe eccetera però l'importante è che ci siamo arrivati quindi mi sento di dire ancora grazie a tutti e soprattutto di rassicurare la nostra clientela che siamo nei tempi giustissimi e che la spiaggia verrà sistemata più o meno come prima e quindi avremo una stagione fortunata sicuramente fortunata vogliamo rassicurare comunque per la fine di maggio e i primi di giugno la stagionalità a tutti Passiamo ora al tema della sanità nella provincia di Pesero e Urbino con l'intervista alla presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche Laura Biagiotti intervenuta sui tagli che mettono a rischio, ha detto, l'efficienza del sistema sanitario a discapito della qualità della vita dei cittadini La politica dei tagli mette a serio rischio la categoria degli infermieri a tal proposito è chiaro il messaggio lanciato da Laura Biagiotti presidente dell'ordine delle professioni infermieristiche di Pesero Urbino tagliare i costi e abbandonare gli infermieri oggi significa peggiorare la qualità della vita delle persone Mettere a rischio la vita delle persone potrebbe essere qualcosa che fa paura ma in realtà se ci pensiamo ridurre ad esempio il personale infermieristico e anche tutto il personale sanitario incide sicuramente sul quanto quante prestazioni possiamo fare in ambito sanitario sono sempre perplessa tutte le volte che arriviamo nel periodo estivo e andiamo a ridurre ad esempio con la chiusura dei reparti riduciamo proprio le attività questo perché perché non abbiamo il personale infermieristico in questo caso perché perché non abbiamo il personale integrativo e significa che siccome dobbiamo assicurare agli infermieri il giusto riposo le giuste ferie estive che sono previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per poter sopperire a questo nei periodi estivi riduciamo le attività e questo non è sicuramente un buon segno parlando anche da cittadini perché ridurre le attività sanitarie in una provincia come la nostra che è fonte di turismo credo che non sia sicuramente l'azione migliorativa l'infermiere è una figura professionale che si è evoluta nel corso degli anni continua ad essere fondamentale per la nostra sanità è una figura altamente professionalizzante ormai abbiamo una specificità clinica dove molti infermieri ormai si può dire che più dell'80% hanno un corso post base di specializzazione universitaria quindi possiamo dire che la clinica infermieristica ha sempre più una posizione specifica e idone in ambito sanitario occasione importante per tracciare un bilancio sul lavoro svolto dagli infermieri sul territorio e guardare al futuro con una proposta interessante per il bene della comunità abbiamo dei professionisti veramente in gamba formati in grado di mandare avanti ambulatori infermieristici questo ce lo dimostra in grado di poter sopperire sul territorio nella rete territoriale tutte le grandi difficoltà che può avere un cittadino ad esempio a tutt'oggi è costretto a rivolgersi sempre o al medico di famiglia o fare degli accessi inappropriati nel pronto soccorso io non me la prendo col cittadino ma penso che un cittadino non sa dove deve rivolgersi perché se no nessuno andrebbe a fare una cosa che sa benissimo a cui andrebbe in conto una prestazione non idonea o un'attesa di 24 ore in pronto soccorso quindi la presenza di un infermiere sul territorio come un infermiere di famiglia infermieri di comunità sicuramente andrà a sopperire tutte queste difficoltà che può avere un medico di famiglia in questo momento e di conseguenza dare quelle risposte al cittadino che sono quelle che attualmente purtroppo sono quelle che dà un singolo infermiere al vicino di casa invece di darlo al solo vicino di casa che dà il supporto un aiuto reale perché manca che venga dato a tutta la cittadinanza della nostra provincia attivando molto velocemente anche queste rete territoriali integrandole con l'infermiere di famiglia torniamo a Fano per i sit-in di protesta contro il nuovo sottopasso ferroviario in Viale Cairoli sabato scorso residenti e associazioni hanno contestato il progetto che prevede l'abbattimento dei platani per una infrastruttura lunga 130 metri e larga poco più di 4 l'opera verrà realizzata da RFI con un finanziamento di 2 milioni di euro a cui si aggiungono 500 mila del comune allora sentiamo l'intervista che è stata realizzata da Cristiana Guerra 5 associazioni riunite qui in Viale Cairoli per un sit-in di protesta che cosa chiedete? chiediamo innanzitutto di essere informati e di conoscere il progetto questo è un progetto che va avanti non si sa da quanti anni sul sito del comune di Fano ce n'è uno del gennaio 2010 quindi vuol dire che da allora c'era tutto il tempo per coinvolgere i cittadini le associazioni i commercianti e per far capire come verrà fuori esattamente questo progetto perché abbiamo visto solo del rendering siamo molto preoccupati perché quanto pare tutto il verde che c'è lungo il percorso del sottopasso scomparirà verranno quindi sacrificati 15 platani e non sono alberi piccolissimi quindi non è che si possono sostituire così dall'oggi al domani con altri tanti alberi e poi qui non verrebbero ripiantati questo sembra ma il punto non è solo questo è un problema di qualità architettonica si va a snaturare e a togliere la bellezza di un viale che risale al 1940 senza un'idea di quello che varrà fuori praticamente un'operazione spot solo perché ci sono i soldi solo perché il ferroio dello Stato deve rimettere mano al sottopasso e si approfitta di questa occasione per fare un sottopasso nuovo ma senza nessuna qualità e pregio e non crediamo che un progetto di questo tipo deve essere pensato e discusso con chi vive la città non solo tra amministratori e tecnici tra l'altro voi avete ricevuto anche molte telefonate dai cittadini beh siamo stati sollecitati a fare questa cosa anche dai cittadini perché soprattutto alcuni residenti che stanno qua e si chiedono cosa succederà insomma e questo però è un difetto non solo di questa amministrazione quello di non discutere per tempo qui si sarebbe potuto fare un concorso di idee per esempio c'era tutto il tempo per farlo il Comune di Infano poteva mettere a disposizione un concorso di idee alle ferrovie e si sceglieva il progetto migliore quello che non siamo neanche contrari di fare tutto il viale non è che voglio dire siamo quelli che difendono le piante oltranza però se le piante sono in buono stato e possono vivere ancora centinaia di anni perché buttarle via sono dei monumenti della natura e noi dobbiamo rispettarli come se fossero dei monumenti fatti dall'uomo quali sono le associazioni presenti? abbiamo promosso questo incontro Italia Nostra Lega Ambiente Fano Argonauta associazioni di dimore storiche e lupus infaba ovviamente oltre al decoro anche un fatto ambientale sicuramente c'è un fatto ambientale perché come avete visto le alluvioni di questi giorni gli alberi sono importantissimi non solo perché magazzinano anidride carbonica ma che trattengono pioggia assorbono dei polveri sottili danno umidità quindi sono dei rifrigeratori naturali sono importanti anche per combattere l'isola di calore che è sempre più frequente invece qui noi sostituiamo cemento e asfalto agli alberi chiediamo che si fermi questo ITER che ci sia un tavolo di confronto aperto associazioni cittadini e che si arrivi a un progetto migliore di questo ovviamente con la presenza del verde intanto la politica si prepara anche alle elezioni amministrative 2024 Fratelli di Tagliafano ha inaugurato la sede del partito in via Lavolini il partito ha detto la coordinatrice Loretta Manocchi a lavoro per dare una vera alternativa per il governo della città è stata inaugurata la sede di Fratelli d'Italia è intitolata Norma Cossetto nome scelto non a caso no non è un nome scelto a caso è diciamo la sintesi della scelta da parte di tutti gli iscritti i quali a fronte di una serie di nomi a cui intitolare la sede hanno scelto Norma Cossetto alla quale è stato dedicato un omaggio iniziale con la lettura di un passo tratto dal libro Foiberossi di Frediano Sessi da parte di Maria Flora Gianmarioli Norma Cossetto è una ragazza nata nel 1920 morta a soli 23 anni una giovane studentessa istriana catturata e imprigionata dai partigiani slavi veniva lungamente seviziata e violentata dai suoi carcerieri e poi barbaramente gettata in una foiba luminosa testimonianza di coraggio e di amor patrio questa è la motivazione della medaglia d'oro al merito civile nel 2005 quindi questa è la scelta e siamo orgogliosi di questa scelta questa mattina si è parlato di cosa è stato effettuato nel percorso passato per il futuro che progetti avete? sì innanzitutto ci tengo a così esprimere la mia vicinanza e di tutto il circolo agli alluvionati e tutte le persone che in questo momento hanno perso tanto le proprie case le proprie abitazioni e anche i propri cari i progetti per il futuro sono quelli di costruire una valida classe dirigente alternativa all'attuale classe dirigente che sta amministrando questa città competente capace in grado di raccogliere tutte le stanze della città e avere una visione di Fano grande una visione di Fano veramente dove ci si accoglie in questa città in modo veramente importante e abbiamo in animo di tenere aperto tutti i lunedì la sede dalle 8.30 in poi aperta non solo agli iscritti ma tutti i cittadini che vorranno con noi confrontarsi portare i propri progetti portare le proprie idee e costruire con noi un futuro quindi ci prepariamo per il 2024 in modo serio coerente preparato per dare ai fanesi una vera e reale alternativa di governo di questa città per i giovani con il linguaggio dei giovani dopo l'interesse suscitato dalla prima edizione di Generazione Futuro la fondazione Carifano rilancia l'evento organizzando tre giornate 16, 17, 18 giugno in cui i noti personaggi dei social si confronteranno direttamente con i ragazzi fanesi alla conferenza stampa di presentazione c'era per noi Massimo Foghetti una nuova iniziativa un incontro per tre giornate organizzate dalla fondazione Carifano in modo particolare per i giovani ed è significativo che il nuovo mandato del presidente Gragnola si ricolleghi a tutto un trascorso che è stato fatto in favore per i giovani con un collegamento diretto ai loro interessi Presidente Generazione Futuro qual è lo scopo di questa iniziativa e di che cosa si tratta? Generazione Futuro è un momento che segue l'iniziativa dell'anno scorso in occasione del trentennale della fondazione tutto dedicato ai giovani quest'anno che punta la sua attività sul digitale sullo storytelling con tre ospiti d'eccezione che verrà realizzato qui a Palazzo Bracci Pagani nei giorni di 16, 17 e 18 giugno Interesse per i giovani ma interesse anche per la nuova forma di espressione nei confronti dei giovani ecco qual è il linguaggio che viene assunto con questa iniziativa? Beh dovrebbe essere un'occasione per parlare appunto di digitale per parlare di storytelling per parlare di temi che sono assolutamente attuali il digitale è una frontiera sulla quale ci siamo appena incamminati le statistiche dicono che il 64% degli italiani è privo di qualsiasi cognizione digitale quando invece oggi per fare qualsiasi attività anche la più banale con la pubblica amministrazione occorre avere quelle cognizioni di digitale che sono per lo più una prerogativa dei giovani quindi tanto più i giovani sono interessati ma non soltanto i giovani e lo storytelling è un altro modo per comunicare quello che si fa perché non è sufficiente nel nostro nel mondo contemporaneo fare le cose non è sufficiente farle in modo adeguato ma è necessario anche comunicarle perché dalla comunicazione di quello che si fa e di come lo si fa possono soprattutto le giovani generazioni avere degli stimoli per programmare per progettare per proporre e la fondazione è qui anche per questo quali sono i personaggi che interverranno a Generazione Futuro e soprattutto quali sono gli argomenti che verranno affrontati Marizzo Merluzzo Cecilia Sala Federico Buffa sono questi gli ospiti per la seconda edizione di Generazione Futuro che si svolgerà dal 16 al 18 giugno alla Corte del Nespolo qui a Palazzo Bracci Pagani per questa seconda edizione abbiamo voluto concentrare l'indagine e la ricerca sul digital e lo storytelling due temi particolarmente attuali che inquadrano quelle che sono le necessità ma soprattutto le curiosità nel mondo giovanile Generazione Futuro Festival non è un evento bensì a noi piace chiamarlo una prospettiva che mette insieme più punti di vista quello della fondazione con l'aderenza ai valori del territorio e dall'altro la ricerca e la continua curiosità per capire come la nostra società sta cambiando e che tipo di metamorfosi ci sta riguardando in prima persona quindi anche gli ospiti di caratura nazionale possiamo dirlo anche internazionale si confronteranno con il nostro pubblico giovanile proprio per inquadrare quello che è una sorta di contaminazione di confronto e di apertura al dialogo sempre più ricercata e necessaria con questa notizia chiudiamo il nostro telegiornale tra poco però torneremo in diretta per una nuova puntata di primo cittadino insieme al sindaco di Vallefoglia Palmiro Occhielli adesso le previsioni del tempo e poi torniamo nei nostri studi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.